Le cose ora vanno alla grande. Insomma, Doge se n'è andata, di Eden non si hanno notizie. Tutto sta tornando alla normalità ora. Non riesco a crederci. Una chiave per viaggiare nel tempo. Ho spezzato la barriera tra il nostro mondo e mondi ben più grandi di questo. Ed è stato a quel punto che mi sono unito a qualcosa dal potere inimmaginabile. Che succede? È qui. Ogni chiave che possiedo rende il portale più grande. La fine di questo mondo sta per arrivare. Perché non risparmiate la vostra famiglia? So io che dobbiamo fare. Ti fidi di me? Certo che mi fido. Non conoscere la magea mi teneva sempre distante dai miei figli. Non sai quando. Questa è casa nostra. Quelle chiavi ci appartengono. Brutte notizie. Terribili notizie. Grazie per il passaggio. Grazie a tutti